ci siamo dichiaro chiusa la votazione la camera approva passiamo ora la votazione dell'articolo 28 dichiaro aperta la votazione Bernini Gelmini Zoggia provi a votare altri dichiaro chiusa la votazione la camera approva relatrice prego l'articolo 29 per l'articolo 29 Presidente parere favorevole al 29 600 della Commissione e poi al 29 152 Verini però con una riformulazione sostituire le parole utilizzabili verini 29 152 pagina mi pare 14 29 152 Verini ok Verini però con la riformulazione sostituire le parole utilizzabili con la seguente cioè con utilizzate il resto parere contrario perfetto relatore di minoranza prego onoreone ferraresi grazie 29 punto 50 santelli contrario 29 punto 1 29 punto 150 identici favorevole 29 punto 2 ferraresi favorevole 29 punto 301 mannino favorevole 29 punto 302 amicillo favorevole 29 punto 303 terzioni favorevole 29 punto 304 zolezzi favorevole 29 punto 309 zolezzi favorevole 29 punto 303 aspetti un secondo